E' un grande ritorno, anche se, dice lui, è come se non fossi mai andato via. Il giornalista professionista Gianfranco Lattante, con lunga esperienza nella carta stampata e nell'informazione televisiva, è il nuovo timoniere dell'informazione di Telerama, dove ha già vestito i panni di redattore 14 anni fa. Vincenzo Sparviero, per motivi di carattere personale, lascia il coordinamento, non senza spendere prima parole d'affetto. Questi mesi, dice, sono stati molto formativi sotto il profilo professionale e umano, potendo contare su compagni di viaggio eccezionali. Per ragioni personali, però, devo momentaneamente sospendere la mia attività in attesa di riprendere al più presto una collaborazione, che si è rivelata gratificante e ricca di soddisfazioni. Al collega Lattante, giornalista di grande esperienza e amico di vecchia data, rivolgo i miei più cordiali auguri di buon lavoro. Torno a Telerama dopo 14 anni, ma è come se non fossi mai andato via, dice Gianfranco Lattante, e questo grazie all'affetto e alla stima che mi legano all'editore Paolo Pagliaro e al direttore Max Persano, che ringrazio per la rinnovata fiducia. In questi anni ho arricchito la mia esperienza nelle redazioni di Quotidiano di Puglia e la Gazzetta del Mezzogiorno. Ora riparto per una nuova avventura, ma con lo spirito e la determinazione di sempre. Con l'ecce e il Salento sempre nel cuore, ma con un orizzonte più ampio, la Puglia e la Basilicata, mantenendo stretti legami con la comunità. Un saluto all'amico Sparviero, di cui raccolgo il testimone, e ai direttori che mi hanno preceduto. Tutti hanno contribuito a consolidare il ruolo del Tg nell'ambito del panorama informativo salentino. Risultati che sono stati possibili grazie ad una grande redazione, autorevole, forte e innovativa. Ed ora insieme siamo pronti ad affrontare con passione questa nuova sfida, quella di un giornalismo moderno, efficace e qualificato, che sia sempre presente anche sul digitale. Massima stima a Vincenzo Sparviero, a lui va il mio ringraziamento per la professionalità e l'impegno ed anche i miei migliori auguri per il futuro, dice l'editore Paolo Pagliaro. A Gianfranco Lattante il mio bentornato a bordo della nostra nave, che conosce benissimo e saprà guidare verso i traguardi che ci siamo prefissati. Lattante è stimato per la sua grande credibilità e autorevolezza e per le sue grandi capacità giornalistiche e organizzative. Tutte qualità che si sposano alla perfezione con la linea di pensiero ed editoriale della nostra TV. Siamo certi che con lui, conclude, si continuerà nel solco della tradizione di direttori precedenti, tutte persone professionisti eccellenti.